Ancora però, eh? Ancora? No, lei no, con lei è migliorata, però gira, vedi chi gira proprio alla larga, ma ci pone proprio così. No, no, lei, i bambini soprattutto. Eh, bambini, figli anziani, figli anziani. Bambini io non mi fido, eh, perché un paio di volte è rinviato e se lo ringhia mai. E poi gli stanno le palle mio padre, ecco, mio padre non lo so. Perché i bambini sono eroenti di noi, d'ora, d'ora. La donna se ti dico. Eh, ok. Quando ti prendono le ginecchia, ti suicido? Sì, sì, sì. Una volta, vedi a schiena per la mamma, vedi a schiena per la mamma. Lei di solito schiva, ma arrivai fino all'ultima per gli schiena, però... No, la volta che ha preso lei, era giurata, a guardare se il cane la inseguiva, ha preso lei in pieno. Guarda, guarda. Vedi che però hanno proprio lo stesso modo di giocare. Così ti spai, che sono anche da... Eh.